E lasciamo l'emergenza Covid, andiamo all'estero, si alza la tensione in Medio Oriente, assassinato in Iran, il capo del programma nucleare del paese Teheran punta il dito contro Israele e promette vendetta alla corrispondente Lucia Goracci. Uno stradone al crepuscolo, auto della polizia in lontananza. Come sempre l'Iran non fa vedere molto e ora che a morire sotto attacco è lo scienziato a capo del programma nucleare Mohsen Fahrizadeh, la censura è massima. Morto in ospedale dove in vano si è tentato di salvarlo, dopo che la sua auto è stata colpita da un'esplosione e poi da armi automatiche ad Absar, località a est di Teheran. Un atto di terrorismo, non dubita il ministro degli esteri Zarif. Ci sono serie indicazioni, twitta, che Israele abbia giocato un ruolo. Dello scienziato nucleare ucciso in Iran, il premier israeliano Netanyahu aveva parlato due anni fa. Ricordatevi di questo nome, aveva detto, denunciando piani segreti iraniani per la bomba atomica. Promette una vendetta terribile il capo di Stato maggiore iraniano all'avvicinarsi il prossimo gennaio dell'omicidio mirato del potente generale dei Pasdaran Soleimani, ucciso dagli Stati Uniti. Per ora Donald Trump non commenta, ma rita la notizia della morte dello scienziato atomico. Grazie a tutti.